tu che sei festeggiato fare il soluto di tutte le cose che sono da dire su i soldi che ci devono dare lo dirò alla maniera del profeta del quello, se volete regalarci l'agento lo potete fare andando sul sito di FanboyGDR che è il podcast più podcast di tutti oppure su qwerty.com che è il network del podcast più podcast di tutti, ci potete fare una donazione di quello che volete e oppure alternativamente fare il Patreon e oppure alternativamente iscrivervi facendo la testa da soci che tanto è lo stesso, se non volete invece darci l'argento potete usarlo per comprare i porni sull'Amazon, nel caso quando lo fate passate prima dal nostro sito così l'Amazon un po' di soldi dei porni ce li danno sono stato bravo? io voglio la parola fine è quella che pone il finale però coltivo un po' per il semplice fatto che lui sta guardando le cose quindi se volete venire ospiti basta che ce lo chiedete se noi vogliamo venire ospiti non ve lo chiediamo ci trovate davanti alla porta di casa è vostro a norma di legge diritto non aprirci è nostro diritto sfondare la porta sappiatelo siamo molto affamati abbiamo bisogno di primo secondo e vino stai prendendo tempo per Claudio che sistemi sto cercando è un poco metallico anche se non ho detto niente di pornografico ok infatti la premonizione è giusta no perché questa stanza ormai è diventata piena di metallo in questa stanza ogni tanto si rompono delle cose di solito sono io che le rompo e ogni volta che vengono riparate vengono riparate magari prima era un pezzo di stucco una lastra di metallo è saltato il gradino per uscire dalla finestra che era legno e cemento metallo metallo a breve saremo completamente a prova di bomba ha detto metallo e continuo a dire a proposito io ho un po' di tosse quindi se il tossicchio è il mio tossicchio metallico fino a mezzanotte per fare uno che vuoi come i gremlin poi vi dovete dare da mangiare ma poi mi sono sempre chiesto questa cosa è i gremlin dopo la mezzanotte che cazzo vuol dire? è sempre dopo la mezzanotte esatto del giorno prima perché non ha mai detto fino a che ora? no ma è scontato perché giocavano a vampiri dopo la mezzanotte ovviamente solo da mezzanotte all'alba grazie Luca grazie a tutti grazie a tutti